Ciao carissimi, di recente di nuovo l'esercito ucraino ha bombardato la centrale nucleare di Zaporizia. Una cosa impressionante, una cosa allucinante che il nostro mainstream occidentale ha continuato a diffondere le bagianate sul fatto che in realtà sono i russi che bombardano se stessi, sono i russi che bombardano la centrale nucleare che loro stessi presidiano. Quindi io non so come spiegarvi che sono veramente deluso, sono spaventato da questa terrificante ondata di propaganda che c'è sui nostri canali, adesso addirittura anche il canale, il programma di Annunziata che io guardo spesso con piacere, ma io altro giorno ho visto dei spezzoni e mi sono spaventato quando io ho visto come una giornalista in diretta tv semplicemente ripete delle fake news, delle notizie false che non sono confermate da nessuna realtà, non ci sono gli argomenti che possono confermare questo fatto e racconta che i russi hanno bombardato per l'ennesima volta la centrale nucleare di Zaporizia, poi c'era un generale che anche lui diceva la sua ed era impressionante a guardare come due persone adulte, due persone che dovrebbero essere professionisti, che dovrebbero impegnarsi per uno per informare l'altro per difendere insomma la società nel quale abitano, invece stanno lì e ci costringono a credere nelle follie, perché qua stiamo parlando veramente delle follie, qua si ripete la storia del missile che gli ucraini hanno lanciato in Polonia, missile che ha ucciso due persone e tutto il mondo ha parlato del missile russo, colpevoli sono i russi e qua di nuovo colpevoli sono i russi, sì io sono d'accordo che magari ai molti non piace che i russi sono intervenuti, che i russi hanno occupato l'Ucraina e a molti non piace che i russi si trovano sulla centrale di Zaporizia, su questo non ci piove, possiamo avere le nostre opinioni, possiamo credere nelle varie pagine della storiografia, possiamo vedere sotto diverso aspetto situazioni che si svolgono a livello internazionale, in geopolitica, ma non possiamo sostenere le falsità, non possiamo sostenere le notizie false, non possiamo credere nelle bagianate che vengono diffuse da questo sistema ormai marcio che non è in grado neanche creare una propaganda di qualità, ma io dico ma io capisco che dovete fare la propaganda, io non è che vi chiedo di essere obiettivi, non lo siete stati e non sarete mai perché siete stati inventati per portare avanti una propaganda, però nel portare la propaganda almeno siate decenti di in qualche modo almeno prendere le basi da una situazione reale, ma non potete inventare un mondo fetizio, non potete inventare le notizie da zero, cioè un missile sparato dall'Ucraina non può essere un missile russo, non ha la stessa traiettoria, non ha la stessa tipologia, non ha niente di quello che può farvi garantire che questo missile è russo, nello stesso modo non può essere, non esiste che i russi sparano su se stessi con i sistemi di artilleria mentre si trovano a presidiare la centrale nucleare di Zaporizia, ma non esiste, cioè i russi che stanno all'interno, ma cosa fanno secondo voi? Si divertono, ma sì qua ci sono sei reattori, dai facciamo saltare uno, vediamo cosa succede, dai Ivan tu vai con il cannone a 5, 10, 20 chilometri lontano, io ti chiamo dal telefono, ti dico le coordinate, tu spara qui io mentre tu spari, sto qui sotto e vedo dove cadono i colpi, cioè secondo voi i russi sono imbecilli così, saranno cattivi, saranno imperialisti, saranno ciò che volete, ma non sono dei cretini e basta, basta trattare noi italiani come dei cretini, basta condividere queste notizie false, ormai non vi crede nessuno, io ogni volta quando vedo queste cose cari amici mi arrabbio, mi arrabbio perché vivo in un paese che si riempie la bocca di tutti i valori di democrazia, libertà della parola e libertà della persona, è qua, è là, e poi invece ci mettono con la faccia in fango della loro propaganda che non è neanche basata sulla realtà, ci vogliono far credere nelle bagianate che non stanno in cielo intera come questa ultima dell'Ucraina che lancia un missile in Polonia ed il missile improvvisamente diventa russo, o quella del centrale nucleare di Zaporizia che si trova sotto controllo dei russi e stranamente sono i russi che sparano su se stessi, ma basta, ma io non riesco a capire ma questa gente, questi giornalisti, ma cosa credono? Che la gente che li segue sono dei cretini totali? Che le persone fanno fatica di aprire un canale Telegram e leggere le notizie vere? Oppure non riescono a guardare sulla mappa dove si trova Zaporizia e chi oggi controlla una centrale nucleare? Secondo loro la gente è totalmente priva dell'intelletto o loro vogliono avere a che fare con la gente priva dell'intelletto? Queste sono, cari amici, le problematiche che noi dobbiamo far sempre di più immergere, dobbiamo parlare, discutere, far sì che il dibattito pubblico, culturale, sociale, politico viene improntato su questa cosa, sull'incapacità totale incapacità del nostro mainstream di essere obiettivo e almeno in parte veritiero, perché noi siamo di fronte a una valanga di fango che ci sta massacrando tutti quanti ogni giorno. Grazie, cari amici, scusatemi per questo fogo, ma io di fronte a queste situazioni non riesco a mantenere la calma. Grazie per essere stati qui con me, vi invito a iscrivervi sui miei canali Instagram, Facebook, YouTube, su YouTube mettete pollice in alto, campanellino, così vi arrivano i messaggi quando io carico i nuovi video e mi raccomando se volete accedere ai video veri, ai video che raccontano le realtà del conflitto, ai video che vengono diffusi direttamente da chi combatte sul fronte. Se volete accedere un po' alle analisi che io rilascio riguardo alla geopolitica, iscrivetevi al mio canale Telegram ufficiale Nicolai Living. Grazie, statemi bene.